Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec Trentino! Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec Trentino! Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli starting six, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli altri, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli altri, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec. Allora ci siamo con gli altri, partiremo dalla sestetta base di Itas Theotec, partiremo dalla sestetta base di Itas theotec.